Cateri d'Italia, d'Italia se destra, dell'Emo, di Scipio, se cinta la... Beatrice, un altro successo, questa volta campionessa europea. Sì, sono tornata da poco dai campionati europei di Innsbruck 2023, la sedicesima edizione, e mi sono classificata a primo posto nella specialità del freestyle, nella categoria under 17. Senti, ce lo siamo detti più volte, la tua è quasi una danza, ovviamente taekwondo sono forme, come ricorda anche proprio la dicitura, forme e freestyle, però è una forma comunque di danza. Sì, diciamo il mio settore comprende le forme e il freestyle, e le forme sono delle azioni di braccia e gambe, movimento senza la musica, mentre il freestyle, che è la categoria in cui ho vinto, comprende una sorta di movimenti, di salti, calci, acrobazie, una coreografia basata su una musica. Allora, ci siamo visti più volte nell'arco della tua carriera, diciamo, sportiva, quindi si va avanti, ovviamente si cresce, ti lasci qualcosa indietro, ti penti di qualcosa, o vuoi comunque proseguire in questa strada? Allora, il mio percorso sportivo ci sono stati, come ogni atleta penso, alti e bassi, però non mi pento di nulla, perché comunque grazie a ogni momento che è successo, grazie a una medaglia vinta, ma anche a una medaglia persa, che insomma sono chi sono, sono dove sono, quindi no, non mi pento di nulla, spero di continuare così nel futuro, andando sempre a migliorare, sempre in meglio. Ecco, adesso so che devi affrontare un'altra gara, in questo caso campionati italiani. Sì, venerdì partirò per Napoli, si svolgeranno infatti il primo, il due, il tre dicembre i campionati italiani forme freestyle, giù a Napoli, e spero di tornare con altrettanti successi, insomma. Ma come si conciliano tutti questi impegni, perché ovviamente tu sei ancora una studentessa? È un po' fatica, non è facile, però se vuoi fare entrambi trovi il tempo e trovi il modo. Una piccola, non dico pecca, ma insomma un qualcosa che magari potrebbe arricchire il tuo medagliere potrebbero essere le Olimpiadi, però questa, in particolare ovviamente il freestyle e le forme, non è una disciplina olimpica, sperate che lo diventi. Sì, ancora non è una disciplina olimpica, è entrata solamente del taekwondo, solamente nel settore del combattimento. Noi come federazione, anche il nostro presidente, comunque spingiamo verso un inserimento di questa categoria, delle forme del freestyle, e speriamo che un giorno possano entrare a far parte tra le discipline olimpiche e di poter partecipare. Come ti sembra che questo sport, anche tra le ragazze, ma anche tra i ragazzi più piccoli di te, stia così prendendo campo? Io ricordo le prime interviste che facevamo, insomma non era ancora uno sport molto diffuso. Allora, io noto in palestra sempre più bambini, ma anche bambine non c'è differenzazione, che si divertono e continuano insomma a venire in palestra, sempre più numerosi. Ecco, fa piacere vedere crescere le generazioni, essendo partita anch'io da una di quelle bambine, vedere che man mano che vado avanti continuano ad affluire bambini, sempre dai più piccoli ai più grandi, comunque sì, è piacevole.